Molise a calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sanni Consul Brokers, piazza della Vittoria 14A, a Campobasso, broker di assicurazione Info 0874 43 86 35 Molise a calci Buonasera, ben ritrovati con questa nuova puntata di Molise a calci dedicata ai commenti post partita della vittoria del CLN Cus Molise contro sabato scorso, ha vinto ed è andata in Serie A2 Elite quindi davvero un grande traguardo per la squadra di Marco Sanginario per quanto riguarda le ultime dalla Serie D la Serie D torneo nel quale il Campobasso è approdato da qualche settimana abbiamo parlato recentemente, cioè nei nostri TG quotidiani del, chiamiamolo esonero, mancata proroga contrattuale con il tecnico Dimeo la continuazione del rapporto solo con il direttore sportivo Pino De Filippis per quanto riguarda, chiamiamolo Rebus, allenatore dovrebbe essere sciolto entro la fine del mese di maggio siamo tutti in attesa perché la società ha promesso, si è sentita di promettere un Campobasso competitivo anche in quarta serie parleremo poi dei campionati regionali che abbiamo seguito questo e altro, quindi due blocchi di Moviola il top e flop in compagnia di due ospiti che a breve certamente vi presenteremo e di Alessia Manocchio a cui do la buona serata Alessia Io auguro buonasera a te Gianni buonasera ai nostri ospiti e a voi che ci seguite da casa e ben ritrovati al nostro appuntamento del lunedì con Molise a calci ci apprestiamo quasi alle battute conclusive della stagione sarà la penultima puntata nonché la puntata numero 375 di Molise a calci che come sempre vi ricordo potrete guardare sul canale 11 sia in Abruzzo che in Molise ed anche sulle nostre piattaforme social YouTube e Facebook inoltre voglio ringraziare come di consuetudine anche questa sera la boutique di Monique che si trova in via Vittorio Veneto per il nuovo abito che sto indossando ma ci addentriamo subito nel vivo della trasmissione e focalizziamo la nostra attenzione questa sera partendo proprio da come anticipato anche tu Gianni dalla splendida vittoria del circolo La Nebbia Cus Molise e Calcio a 5 che ci ha sperato, ci è riuscito fino alla fine ed è approdato definitivamente in serie A2 Elite infatti sabato al Pala Unimol i ragazzi di Mister Sanginario sono riusciti a sconfiggere la formazione laziale dei Ornets con un risultato di ben 2 a 1 in rimonta soli 10 secondi dalla fine della sirena che avrebbe portato il rosso-blu alla contese quindi al tempo supplementare ma ne parleremo più tardi guardando anche i nostri servizi e voglio subito salutare gli ospiti di questa sera saluto Paolo Di Blasio, attaccante del Trivento buonasera Paolo buonasera Alessia, buonasera Gianni grazie per l'invito ecco nonostante la stagione non si sia conclusa nel migliore dei modi poiché il Trivento è retrocesso dalla promozione in prima categoria siete usciti a testa alta soddisfatti di questo campionato? sì, ci abbiamo provato fino alla fine ovviamente purtroppo è andata male non come speravamo però ci tengo comunque a ringraziare tutti i ragazzi hanno lottato fino alla fine fino all'ultima partita in una situazione anche abbastanza complicata e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e affrontare la prossima stagione in maniera sicuramente combattiva riprende con tutti i buoni propositi sì certo, dobbiamo affrontare qualsiasi categoria diciamo ci sarà prospettata in maniera avvincente anche perché Trivento merita sicuramente palcoscenici diversi, importanti e poi salutiamo Antonio Tamburro attaccante del Mirabello buonasera Antonio buonasera Alessia, buonasera Gianni grazie per l'invito formazione il Mirabello che ha conquistato invece la promozione in prima categoria nella gara contro il Tamaro, vero? sì, è stato finalmente il traguardo che tutti noi aspettavamo raggiunto dopo un anno di duri sacrifici soprattutto grazie a quello che è stato l'organico di squadra siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo sperato e ringrazio fortemente quella che è stata la società che ci è stata vicina il nostro allenatore che è stata sicuramente una delle note che ci hanno permesso principalmente di raggiungere il nostro obiettivo che vedremo l'anno prossimo cosa ci prospetterà sicuramente sarà un campionato molto più avvincente perché però ci darà sicuramente delle soddisfazioni allora diciamo che il Mirabello è approdato in prima categoria battendo nello spareggio il Tamaro perché c'è stata questa situazione di punteggio ex equo siete arrivati a pari punti col Tamaro e quindi c'è stata la necessità di uno spareggio che si è giocato a Riccia vinto 3 a 1 giusto? 2 a 1 diciamo anche i marcatori Antonio allora i marcatori sono stati Marco Di Biase e successivamente Giovanni Silvestri poi sullo scadere il Tamaro ha provato a riaprirla con Paolo Mobiglia ieri poi abbiamo seguito anche Tamaro Sporting Nuoto vinta d'altro Sporting Nuoto quindi il Tamaro ha perso la finale playoff di seconda categoria lo Sporting Nuoto evidentemente accederà a questi triangolari fra squadre che vincono i campionati i playoff di seconda categoria per quanto riguarda il Trivento c'è un'analogia con la Serie D cioè in Serie D cosa è successo? nei playoff si sono salvate le squadre peggio classificate vale a dire il Termoli e questo abbiamo detto spesso ci fa piacere contro la Vastese e il pomeriggio di ieri il Notaresco ha vinto 3 a 2 in casa del Roma City dopo aver vinto Paolo uno spareggio per accedere al playoff che si è giocato a Sansepolcro contro il Monte Giorgio quindi a che conclusioni possiamo giungere? che alla fine questo vantaggio che aveva anche il Trivento che è quello del miglior piazzamento alla fine della stagione è relativo sia nei playoff che nei playout probabilmente si dice sempre in caso di parità sì questa è la norma poi la partita va giocata sì comunque diciamo il doppio risultato utile sempre sui 120 minuti quindi con i tempi supplementari io penso che sì sia relativo perché comunque bisogna affrontare la partita in un certo modo bisogna vedere come ci arrivi a quella partita e quindi la testa fa tanto e anche a livello fisico perché poi comunque se deve affrontare i supplementari così come abbiamo fatto noi con due uomini in meno diventa dura allora metà maggio Trivento-Montenero ho seguito questa partita abbiamo fatto la diretta l'ambiente la società cosa dice? si è riunita ha fatto il punto della situazione si sa qualcosa del futuro in questo momento il Trivento ha diritto ad iscriversi in prima categoria sì al 22 maggio sì c'è stato già un incontro per valutare un attimo le varie prospettive io penso che a breve si rivedranno anche per valutare l'eventuale ripescaggio quindi speriamo se ricorreranno evidentemente i presupposti prima di vedere un contributo abbiamo parlato del campo basso lo chiedo ad entrambi cominciamo da Antonio Tamburro ha confermato il direttore sportivo invece la società ha voluto salutare dare il ben servito lo abbiamo detto in maniera elegante a Di Meo e si prepara a questa quarta serie che commento vuoi fare Antonio Tamburro? ma personalmente penso che sicuramente è un grande risultato perché vincere un campionato di eccellenza sicuramente porta con sé dei vari meriti che vanno fatti al campo basso sul commento riguardo l'allenatore non sono d'accordo con questa scelta perché sicuramente il direttore sportivo nel momento che viene confermato ma viene mandato via l'allenatore non c'è congruenza a mio parere tra le scelte spero che comunque a livello la squadra sia impostata il prossimo anno per il raggiungimento della Lega Pro perché personalmente vivendola l'anno scorso è un grande vantaggio per tutto l'innesto sia soprattutto per quanto riguarda la città della figura che sia della città Paolo Di Blaso sullo stesso argomento via di Meo confermato De Filippis adesso si penserà come passo successivo ad ingaggiare un nuovo allenatore e alla costruzione di un organico secondo le ambizioni di primo livello così ha detto la società sì beh sicuramente bisognava ripartire dalla conferma del direttore sportivo in primis hanno deciso di riconfermare De Filippis e ovviamente adesso da lì bisogna ripartire per costruire la squadra certo l'allenatore bisogna trovare comunque un allenatore insomma bravo capace di affrontare la categoria e di vincerla perché pare che l'obiettivo dichiarato espressamente sia quello di vincere il campionato quindi speriamo che possa arrivare un prospetto interessante allora nel corso della Moviola la prima parte ci dedicheremo a tutto quello che è successo nel girone F di serie D vale a dire la pull scudetto del Pineto i playoff tra Senigallia e Fano vinti dal Fano 1 a 0 lo anticipo poi nella seconda parte campionati regionali abbiamo anche seguito la vittoria del campionato del Riccia che è tornato nel campionato di promozione grande festa a Riccia così come c'è stata grande festa a Mirabello io ho visto delle foto delle cosiddette storie Instagram Antonio la sera della vostra vittoria possiamo anche vedere una foto del Mirabello proprio il giorno ecco qui questa è la prima della partita contro il Tammaro siete stati seguiti anche dai tifosi del Mirabello sì fortunatamente il pubblico nell'ultima partita è stata la marcia in più che ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo sicuramente ci hanno dato il sostegno che tutti speravamo e fortunatamente è andata come diciamo ci eravamo pronosticati e poi la sera ho visto festa a volontà abbiamo festeggiato sia ovviamente a Mirabello e poi ci siamo spostati a Baranello perché gran parte del nostro gruppo è di Baranello e quindi abbiamo voluto festeggiare in entrambi le parti è stata diciamo una bella una bella serata ci sono tanti ragazzi di Baranello che giocano nel Mirabello compreso tu sì siamo penso che il 70% dell'organico sono ragazzi di Baranello siamo tutti amici che abbiamo vissuto insieme dai primi tempi varie esperienze calcistiche mi viene in mente adesso quelli che furono i playoff del campionato Juniores che abbiamo giocato siamo usciti poi in semifinale e quest'anno forse è stata come una sorta di rivincita perché quel gruppo si è riunito e siamo riusciti a vincere quello che è stato il campionato citiamo l'allenatore allenatore allen Cutillo che lui nel vecchio gruppo Juniores era uno dei perni fondamentali è un allenatore giovane credo quanti anni ha 26 26 anni quindi c'è chi preferisce come si dice appendere le scarpe al chiodo e allenare o gioca anche Cutillo no no lui ha scelto solamente di allenare scelta legittima nonostante l'età giovane andiamo a vedere il primo contributo Alessia di festeggiamenti anche in casa a circolo la nebbia Cus Molise che è definitivamente approdato in serie 2 Elite grazie al goal in rimonta di De Betio quindi del goal che ha portato De Betio del 2 a 1 e noi andiamo ad ascoltare Antonio Di Stefano il capitano proprio del CLN Cus Molise ascoltiamo Antonio Di Stefano capitano del Cus Molise e poi dobbiamo dire che ne hai vissute tante con il Cus in questi anni ma questa ti mancava quest'anno è stata davvero difficile è stata un'annata lunga faticosa a un livello importante come più volte ci siamo detti per fortuna il finale è stato dolcissimo per noi anche oggi è stata una partita durissima tesa voglio fare i complimenti alla scuola avversaria che hanno disputato una grande partita così come all'andata però di fronte a questo pubblico non potevamo che regalare una grande gioia ringrazio la città di Campopasso il pubblico che ci è venuto a sostenere oggi e sono contento per la società innanzitutto perché è il giusto premio di tutti i sacrifici fatti in un anno sono d'accordo un anno ma anche nel corso di tante di tante stagioni è arrivato quel guizzo alla fine come l'hai vissuto dal campo? è stata veramente una partita ricca di tensione le due squadre hanno combattuto poteva vincere sia l'una che l'altra per fortuna nei secondi finali Mattia è riuscito a dare una palla d'oro a Jonathan che non poteva sbagliare e quando mancavano dieci secondi ho pensato che il traguardo veramente si avvicinava è il giusto coronamento perché è stato un crescendo in questi anni abbiamo sempre fatto annate importanti nonostante siamo sempre partiti per la salvezza dall'esterno Paolo Di Blasio un grande gruppo che ha raggiunto questo straordinario obiettivo e Campobasso ha risposto tantissima gente quindi attrae il Futsal e adesso si avrà una squadra in A2 Elite l'anno prossimo sì sì faccio i complimenti ai ragazzi del CUS è un grande risultato poi vedere tantissima gente al seguito fa sempre piacere quindi immagino che anche loro siano stati molto motivati e vincere è sempre bello poi quando si fa festa ancora di più e Antonio Tamburo su questa vittoria del CUS CLN che è stato in vantaggio solo 10 secondi fra andate e ritorno però è stato sufficiente sì e mi viene da pensare che in questi momenti è ancora più bello vincere mi ricorda diciamo l'ultima di campionato per esempio del nostro dove a 15 secondi dalla fine praticamente noi eravamo ai playoff con un gol che ci ha permesso di raggiungere il pareggio ci siamo ritrovati a giocarci lo spareggio per chi avesse vinto per quel punto lì esatto per quel pareggio lì voglio solo dire che insomma è casuale la coincidenza di colori fra le squadre immagino chi sta vedendo questa trasmissione vede due tute apparentemente uguali ma vi posso garantire che da una parte c'è scritto Trivento e dall'altra Mirabello quindi del tutto casuale la somiglianza completa cromatica fra Trivento fra i due nostri ospiti Paolo Di Blasio e Antonio Tamburro allora vediamo che cosa adesso Alessia abbiamo già anticipato ed è giunto il momento di andare a guardare i momenti salienti appunto di questa giornata di playoff di Serie D Girone F nonché il pull scudetto attraverso la moviola del nostro direttore Antonio Di Lallo guardiamola insieme in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brimido dolce di felicità Siamo a Senigallia esattamente per il play-off finale play-off del girone F della serie D ebbene ha vinto alla fine questa partita il Fano 1 a 0 questo è il gol pensate realizzato proprio al primo minuto di gioco torniamo dietro insieme al nostro regista Donato Mignogna perché vediamo il calcio di punizione di Napello davvero molto bello fa anche rima ma insomma è veramente così perché vedete il tiro che va ad insaccarsi proprio all'incrocio dei pali nulla da fare per il portiere del Senigallia 40esimo del primo tempo va vicino al pareggio il Senigallia perché su calcio di punizione anche qui torniamo un attimo dietro vediamo la deviazione di Schiaroli che è un difensore del Fano eccola qui vedete il tuffo di testa di Schiaroli tentativo di autogol che viene evitato soltanto perché la palla finisce sulla traversa poi sulla ribattuta vedete questo tuffo vedete che va a colpire la traversa della propria porta poi sulla ribattuta c'è un tentativo in rovesciata di Pesaresi attaccante del Senigallia ma ancora Schiaroli che prima aveva cercato di spedire il pallone nella propria rete naturalmente in maniera involontaria ancora Schiaroli questa volta va ad evitare che il pallone finisca in rete si è salvato il Notaresco che ha vinto prima lo spareggio con il Montegiorgio poi ha vinto anche il play-out sul campo del Roma City alla fine ha vinto 3-2 la compagine abruzzese qui siamo al 42esimo del secondo tempo regolamentare vedete che fa il portiere del Roma City esattamente Opara che in sostanza esce tantissimo dalla sua porta per servire probabilmente sicuramente in maniera involontaria però probabilmente in maniera definitiva perché qui il punteggio era sul 2-2 ebbene va a servire proprio un giocatore del Notaresco Defendi che ha giocato anche con il Termoli per fortuna di Opara e del Roma City questa volta Defendi ha una mira completamente sbagliata perché la sfera termina sul fondo al quinto minuto del secondo tempo supplementare però il Notaresco guadagna la permanenza in serie D nel girone F ed è anche un bel gol vedete quello di Scimia su cross di Forcini c'è il colpo di testa di Scimia anche qui il portiere Opara ha un attimo di indecisione perché vedete si tuffa ma poi non fa altro che accompagnare il pallone nella sua porta e il gol che consente al Notaresco di giocare l'anno prossimo ancora in serie D per la finale scudetto tra le vincitrici dei gironi di serie D il Pineto a vita facile contro l'Arezzo vince 3 a 1 questo è il primo gol del Pineto di Della Quercia che vedete approfitta di una ribattuta fuori dall'area di rigore dell'Arezzo controlla con il destro e scaglia un gran tiro davvero violentissimo che elude l'intervento del portiere Aretino e l'1 a 0 per il Pineto che poi vincerà 3 a 1 al 35esimo del secondo tempo Giambè ex giocatore del campo basso riceve da un suo compagno di squadra il tiro è pronto ma pecca proprio di precisione perché vedete la sfera va in sostanza di un soffio al lato del palo alla destra del portiere toscano Giambè che poteva realizzare il quarto gol per la sua squadra e allora non una grossa moviola nella prima parte però qualche episodio su cui commentare c'è senza dubbio allora se è giocato questo play out in serie D tra Notaresco e Roma City possiamo andare con le immagini vedi mi riferisco a entrambi i nostri ospiti c'è un'uscita avventata da parte del portiere del Roma City e poi dei fendi del Notaresco che manda fuori molti hanno ironizzato sul nome del portiere del Roma City che fa di cognome Opara ma l'ironia la lasciamo a chi ci sta ascoltando ovviamente strappa anche un sorriso questo commento però se è mangiato un gol clamoroso defendi o era difficile secondo te volevo un parere da attaccante entrambi attaccanti sia di Blasio che Tamburro sì diciamo onestamente a parte il nome del portiere insomma eronicamente che ha sbagliato sia l'appoggio ma a questo punto rinviala direttamente guarda non era difficile neanche facilissimo lì se prendi la porta fai gol quindi indirizzare semplicemente in porta ha voluto magari dare un po' più effetto alla palla però lì è poi è un attimo perché ha fatto tre passi ha tirato non ha preso la porta altrimenti sarebbe entrato Antonio Tamburro ma personalmente penso che personalmente pensavo che dicessi personalmente avrei segnato no penso che l'attaccante non si nemmeno tanto aspetta che il portiere passi la palla lì perché è stato un po' forse colto di sorpresa quindi anche un po' la questione della fretta l'ha portata però comunque a mio parere non è facile segnare la lì perché comunque sono più di 40 metri quindi è abbastanza difficile a mio parere e poi vediamolo questo gol al cento quindicesimo anzi no sì al cento quindicesimo rivediamolo il gol del notaresco questo gol Paolo è valso la salvezza del notaresco al quinto del secondo tempo supplementare quindi al cento quindicesimo ma soprattutto dopo aver giocato un altro spareggio per accedere proprio alla competizione play out a questo punto il notaresco ha meritato di salvarsi che dire che è stata veramente una fatica in mane per gli abruzzesi sì sì lo ha meritato questo è un bel gol l'attaccante è stato bravo anche se il portiere secondo me poteva fare qualcosa in più però ha preso bene il tempo e un gol meritato dai chiedo ad Antonio Tamburro merito attaccante più merito attaccante o più demerito portiere perché insomma lì ci si è giocati un campionato retrocede una si salva l'altra sempre upara personalmente penso che l'attaccante qui abbia fatto il massimo e comunque ha ricevuto anche un gran contributo da parte del portiere quindi direi 60% attaccante 40 portiere Roma City in eccellenza notaresco ancora in Serie D questo ha detto questa partita qui che è stata ricca di colpi di scena di gol 2 a 3 per il notaresco che farà parte del gruppo presumibilmente il gruppo F di Serie D l'anno prossimo facciamo un piccolo break pubblicitario Alessia facciamo qualche breve minuto di pausa ma mi raccomando restate con noi a fra poco di nuovo in studio per la seconda parte di Molise a calci e allora c'è ancora da raccontare perché sembra che sia tutto finito ma non è proprio così perché c'è l'Isernia Antonio Tamburro che deve giocare domenica prossima 28 maggio ad Agropoli e il ritorno una settimana dopo ad Isernia in palio c'è il passaggio al turno successivo dei playoff e poi c'è ancora in palio la Serie D come ci potrebbero arrivare secondo te Agropoli e Isernia dopo a distanza di quasi un mese dalla fine del campionato ma sicuramente la condizione di entrambe le squadre potrebbe calare perché comunque c'è un forte tempo diciamo in cui un discorso è allenarsi un discorso è comunque vivere quello che è il discorso partita però sicuramente sono due squadre attrezzate e quindi penso che comunque in questo periodo stiano lavorando per arrivare al meglio a quello che sarà poi diciamo la doppia sfida che deciderà chi andrà diciamo nella chi andrà avanti abbiamo sollecitato ieri uno spunto di riflessione Paolo dicendo che l'Agropoli ha terminato alle spalle del San Marzano che si è giocato anzi per meglio dire il Campobasso si è giocato bene tutte le sue possibilità contro il San Marzano nella Coppa Italia dilettanti fase nazionale salvo poi uscire quindi insomma se 2 più 2 fa 4 possiamo dire che anche l'Isernia avrà senza dubbio le sue ottime possibilità di giocarsi tutte le carte a disposizione per approdare al turno successivo facendo questo parallelismo col Campobasso io penso che l'Isernia ha tutte le carte in regola per poter puntare ad andare avanti queste sono partite che si giocano soprattutto di testa quindi testa e cuore è un doppio confronto quindi bisogna anche valutare il minutaggio quindi i due risultati però l'importante è entrare in campo convinti perché queste sono partite in cui chi sta meglio secondo me psicologicamente poi ha la meglio e sulla lunga pausa che ovviamente vale per entrambe le squadre cioè circa 30 giorni poco meno prima di giocare questa gara questi playoff che hanno subito questa interruzione così lunga come ci potrebbero arrivare le due formazioni secondo te? è dura il ritmo partita è diverso puoi allenarti puoi cercare insomma di arrivare al meglio a un livello di condizione però comunque il ritmo partita è diverso e passa tanto tempo quindi può incidere anche questo fattore sicuramente e l'ultima cosa il fattore ambientale i campi campani sono tradizionalmente caldi secondo te questo può incidere l'Isernia partiamo dal presupposto che è una squadra forte ha fatto 82 punti in campionato non sono bastati per vincerlo questo campionato il campo basso ne ha fatti 84 ti chiedo se almeno ad Agropoli può valere il fattore clima degli spalti diciamo a favore però dell'Agropoli secondo te o è relativo? ma guarda Gianni io penso che sia relativo anche quello sicuramente troveranno un ambiente caldo però io penso che andranno in campo innanzitutto per cercare di non perdere e poi bisogna vedere come si mette la partita perché magari sai un contropiede un episodio a favore un rigore un'espulsione puoi anche tentare di portare l'intera posta in palio a casa l'Isernia quindi tenta questa scalata la Serie D attraverso una strada tortuosa ma possibile questa dei playoff ieri abbiamo ricordato che ci è arrivato nel recente passato il Montenero ma adesso abbiamo un'intervista realizzata a Riccia con un ragazzo un nostro caro amico che ha deciso di smettere di giocare giovane già da quattro anni adesso ne ha 34 ha deciso quando ne aveva 30 quindi leviamoci questa curiosità chi è di chi stiamo parlando Alessia noi stiamo parlando proprio di Mauro del Zingaro lo hai ben anticipato tu abbiamo seguito la partita del Riccia che nel match contro il difesa grande Porticone ha vinto per 3 ad 1 conquistando così la promozione con due giornate d'anticipo ma andiamo ad ascoltare proprio le parole di Mauro del Zingaro ascoltiamo allora siamo con Mauro del Zingaro riccese doc che è venuto a vedere questa partita che ha sancito la promozione del Riccia nel campionato di promozione sicuramente meritata perché siete stati sempre primi io dico siete sì dai sono contento per i ragazzi una squadra giovane fatta di tutta gente del posto e insomma io ho seguito diciamo la maggior parte le ultime partite di campionato e diciamo che hanno fatto un filotto di 10-11 vittorie mi sembra quindi penso sia più che meritata veramente complimenti a tutti i ragazzi all'allenatore non era semplice perché la squadra ha un'età media veramente veramente bassa e come sappiamo vincere è difficile in qualsiasi categoria in qualsiasi latitudine quindi veramente complimenti a tutti alla società all'allenatore ai ragazzi sono veramente contento ovviamente essendo di Riccia mi fa piacere anche perché diciamocela tutta Riccia può e deve vivere fra promozione d'eccellenza anche per bacino di utenza diciamo che la squadra è sempre stata seguita no? dalla prima categoria seconda categoria in eccellenza abbiamo fatto diversi campionati in eccellenza positivi culminati con una finale di Coppa Italia insomma il seguito c'è vediamo in promozione insomma la squadra andrà sicuramente rinforzata però la base è buona i ragazzi sono molto determinati dai ci sono i presupposti per fare bene sei fermo da quattro anni so che ti chiamano in tanti nonostante questa inattività che ormai si protrae in questo momento sei diviso fra che cosa? la voglia di tornare forse ce lo dirai tu o anche quella magari di intraprendere la carriera di dirigente o allenatore se è possibile guarda ho preso una decisione penso sia definitiva però quando viene al campo insomma c'è gente normale che la voglia di giocare c'è non lo so devo magari magari intraprendo la carriera di allenatore non lo so vediamo dai ci stai pensando ancora? ci sto pensando il Riccio in promozione ha bisogno di di molti aggiustamenti secondo te? no diciamo che più che altro qualche elemento di esperienza perché come dicevo prima la squadra è veramente ma veramente giovane sono tutti magari anche i primi campionati che giocano quindi io penso che con un paio di innesti di esperienza la squadra possa tranquillamente giocarsi le sue chance di salvarsi ecco credo che sia l'obiettivo c'è tutta questa differenza fra prima categoria promozione secondo te una squadra con una base per poi vivere bene in promozione proprio tipo il Riccia Paolo Di Blasio ha bisogno di molti accorgimenti pochi una tua opinione in merito? ma il campionato di promozione negli ultimi anni è diventato comunque un campionato abbastanza livellato ci sono giocatori comunque esperti quindi penso che qualche innesto ci voglia per fare un campionato tranquillo prima categoria magari non trovi tutta questa esperienza anche perché in promozione magari scendono giocatori anche dall'eccellenza soprattutto diciamo le squadre le prime 4-5-6 squadre e quindi diciamo negli ultimi anni è stato un campionato abbastanza livellato Antonio Damburro sei andato anche a Riccia a fare una festa oppure no così per sapere una sfilata io ero lì devo dire che c'era veramente tanto entusiasmo peccato per il maltempo perché c'è stata una sorta di pioggia costante durante la partita però poi ci è piaciuto questa pacifica invasione di campo di oltre 100 persone che si sono abbracciate con i giocatori vuoi fare un commento sul Locomotive Riccia che torna in promozione ma personalmente faccio le congratulazioni a Locomotive soprattutto perché ho molti amici che militano nella squadra e molti sono coetanei e soprattutto penso che per Riccia sia un risultato molto importante perché è comunque un paese con con un numero cospicuo di abitanti e quindi merita quella che è una promozione se non qualcosa di più due giocatori non sono del posto quindi ci riferiamo a Cefaratti e Melillo che è il portiere e quindi tutta la Locomotive Riccia è formata al 95% da giocatori del posto invece Trivento c'è stato un mix durante l'anno qualcuno di Campobasso io ringrazio la regia quindi Gianfrancesco Iacaruso e Massimiliano Chiocchio per questa inquadratura dove siamo tutti Trivento come siamo messi? adesso negli ultimi tempi siamo rimasti comunque quasi tutti i ragazzi del posto inizio anno c'era anche il gruppo di Campobasso che era venuto a darci una mano poi purtroppo poi sono andati via ma perché? sostanzialmente te lo sei chiesto perché sono andati via oppure rimane un dubbio? Gianni non lo so io penso che quando prendi un impegno e dai la parola devi essere in grado comunque di mantenerlo a prescindere dall'allenatore perché poi è stato mandato via l'allenatore poi di conseguenza alcuni ragazzi sono andati via però insomma io penso che quando firmi per una squadra devi comunque tenere l'impegno poi ci possono essere diversi motivi non entro nei particolari però il campionato andava finito anche perché erano comunque ragazzi importanti per noi con anche dei ruoli chiave quindi siamo rimasti senza ed è stato difficile perché poi abbiamo integrato tanti ragazzi juniores che per quanto possano essere bravi si impegnano però non hanno poi l'esperienza per affrontare un campionato e soprattutto per affrontare un campionato in quel momento con una situazione di classifica comunque deficitaria dove dovevi recuperare punti e le ultime partite si sa che insomma abbiamo vinto pochissimo nel girone o nella seconda parte del girone di ritorno voglio dire per correttezza di informazione che alcuni di questi hanno preferito prendere altre strade è stata una cosa consentita cioè è consentito il doppio tesseramento con un'altra società dopo aver abbandonato la società in cui si militava prima nella fattispecie il Trivento però poi le rimostranze le abbiamo sentite da parte di Paolo Di Blasio del Trivento volevi completare il pensiero? No 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 diciamo hai detto tutto tu dispiace perché comunque ecco l'obiettivo si poteva raggiungere potevamo salvarci anche molto tempo prima e quindi è veramente un peccato perché si poteva fare qualcosa in più siamo rimasti comunque rimaneggiati e ci abbiamo provato io veramente devo fare complimenti ai ragazzi soprattutto ai ragazzi più giovani perché ci hanno messo tutto poi il campo purtroppo al 99 al 99 il campo ha detto che ha pareggiato il Montenero poi si è salvato il Montenero come un piccolo inciso tu hai giocato infortunato quella partita mi dicevi sì però ci tenevo tu da fisioterapista consenti a te stesso di giocare era un caso del tutto eccezionale mettiamola così diciamo il cuore è andato oltre in quel caso c'era bisogno di un po' di esperienza e ce l'avevamo fatta ecco quindi era anche servito poi purtroppo c'è stato un episodio molto molto discutibile che ci ha tagliato le gambe siamo rimasti in nove quindi in doppia inferiorità numerica e quindi poi si fa difficile questi fatti di parte triventile ovviamente c'è il Montenero che ha poi vinto 4 a 1 e ha anche meritato di rimanere nella categoria Alessia sentiamo un altro contributo del campionato di seconda categoria esatto Gianni nei playoff di seconda categoria girone B lo Sporting Nuoto ha sconfitto il Tammaro per 2 a 1 andiamo ad ascoltare proprio il portiere dello Sporting Nuoto Fabio Amorosa ascoltiamo Fabio Amorosa portiere dello Sporting Club successo di misure in questa finale sofferta combattuta ma alla fine la vita è spuntata pur soffrendo su un campo difficile campo difficilissimo squadra ostica però devo ringraziare tutta la squadra che mi ha permesso comunque di fare pochi interventi ed essere diciamo tranquillo un bilancio su questa stagione quando avete capito che potevate ambire davvero al salto di categoria ma a dire il vero ci siamo un po' persi per strada perché per diverso tempo siamo stati primi in classifica e abbiamo avuto anche diversi punti in più sulla seconda poi purtroppo gli equilibri del calcio non sono sempre gli stessi e è andata così abbiamo perso un po' di punti per la strada però alla fine il risultato è arrivato allora questa partita si è giocata Antonio Tamburro a Campolattaro e quindi anche lo Sporting Club si è fatto valere come diceva il portiere Fabio Amorosa sì diciamo che è stata la squadra che ci ha diciamo ci ha tenuto più testa durante tutto quello che è stato il campionato sin dall'inizio abbiamo detto che comunque lo Sporting Club era una delle squadre diciamo che avrebbe lottato con noi fino alla fine non ovviamente per discretare il Tamro perché comunque anche loro hanno diciamo ovviamente si sono giocati quello che è stato lo spareggio contro di noi però diciamo forse quello che posso dire da giocatore dell'altra squadra che abbiamo vinto il campionato lo Sporting probabilmente aveva quel qualcosa in più che il Tamaro a cui ha mancato al Tamaro che gli ha permesso ovviamente di vincere va bene dobbiamo fare un'altra piccola pausa pubblicitaria Alessia ci fermiamo per qualche altro minuto vedremo i contributi residui facciamo un breve break pubblicitario ma mi raccomando restate con noi a fra poco di nuovo in studio Rush finale di Molise a Calci Moviola parte seconda dedicata alle riprese che abbiamo svolto sui campionati regionali di prima e anche di seconda categoria ma l'intervista di Del Zingaro ci ha fatto riflettere perché insomma 34 anni un giocatore molto valido è indeciso ancora se continuare o meno ma a distanza di 4 anni forse è difficile che possa continuare secondo noi lo può fare tranquillamente che l'abbiamo anche detto fuori dall'intervista Paolo Di Blasio vuoi continuare hai 37 anni e non ne vuoi sapere di smettere e anche qui siamo conveniamo con la tua scelta quindi per ora pensieri tipo dirigente o allenatore lontani lontani anni luce no anni luce no però ti dico la verità sto bene sto bene anche fisicamente riesco a mantenere comunque una buona condizione e sì continuo voglio continuare insomma finché riesco a dare una mano finché riesco ad essere utile ecco continui questo ci fa piacere perché ti abbiamo visto in discreta forma poi abbiamo visto anche dei gol che hai realizzato quest'anno quanti? 14? sì è un bel bottino in quante partite giocate? non te lo so dire esattamente però ho giocato comunque con regolarità quest'anno e diciamo sicuramente oltre le 20 partite sì a livello personale è andata bene dispiace dispiace per questa retrocessione ci ha detto Paolo Di Blasio che c'è stato un punto della situazione un summit societario se ricorreranno i presupposti il Trivento vorrà fare domanda di ripescaggio e poi alla fine è un fatto di posti vacanti poi alla fine il ripescaggio è legato sostanzialmente a quello a chi si iscrive e a chi non si iscrive esattamente quindi avete già sentore di qualcosa? no ti posso soltanto dire che la società comunque si sono parlati si è incontrata ne ho fatto una riunione e quindi se ci sono se ci saranno i presupposti penso che comunque verrà fatta la domanda di ripescaggio quindi io me lo auguro sinceramente perché cercheremo di affrontare un nuovo campionato di promozione sperando di invertire la rotta rispetto a quanto fatto quest'anno su Del Zingaro vogliamo fare un appello torna a giocare sei giovane lo conosci bene quindi conosci le sue qualità lo conosce tutto il mondo sportivo molisano le qualità di Del Zingaro assolutamente a commento dell'intervista poi sentiamo anche Tamburro io se gli posso dare un consiglio sì mi rimetterei le scarpette poi lui è bravo sa giocare a calcio quindi la forma la riprenderebbe anche in poco tempo anche subito in poco tempo poi comunque anche esperienza quindi per l'allenatore magari per fare allenatore aspetterei un altro pochino Antonio Tamburro su Del Zingaro vuoi fare un appello per il Mirabello non credo con tutto il rispetto non credo che venga a Mirabello ma con tutto il rispetto per il Mirabello sicuramente sarebbe un ottimo innesto conosco non lo conosco personalmente però stando nell'ambiente calcistico me ne hanno più di qualcuno me ne ha parlato bene quindi presumo sia una persona molto valida e quindi io penso che se a 34 anni comunque a livello fisico ci sono le possibilità gli direi di ritornare in campo perché sicuramente potrebbe dare i suoi contributi va bene mi fa piacere abbiamo fatto anche un piccolo spaccato di calcio mercato e anche se non ne ha bisogno del Zingaro insomma prego Gianni volevo un attimino incuriosita da una domanda insomma ne parlavamo anche prima a microfoni spenti vista la tua professione da fisioterapista Paolo volevo chiederti quali sono gli infortuni più ricorrenti soprattutto nel mondo del calcio sì ce ne sono diversi il calcio sicuramente è uno degli sport più traumatici che c'è quindi senz'altro a livello del ginocchio ci sono tantissimi infortuni soprattutto legamentosi quindi sai i crociati i legamenti crociati sono molto molto frequenti le lesioni le rotture noi abbiamo avuto quest'anno il nostro capitano De Pasquale che si è rotto il crociato quindi l'abbiamo perso dopo pochissimo ed è un infortunio comunque che ti ruba diversi mesi per tornare in campo poi ecco ci sono i problemi muscolari che sono comunque di noiosi ma comunque di tempistiche minori quindi sicuramente a livello traumatologico il ginocchio e la caviglia sono sicuramente gli infortuni più frequenti allora possiamo procedere con la seconda parte di Moviola Alessia andiamo a guardare insieme il secondo blocco di Moviola sempre a cura del nostro direttore Antonio Di Lallo guardiamolo insieme in collaborazione in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità per la prima categoria girone B siamo a Riccia dove la Locomotive Riccia ha vinto 3 a 1 sulla difesa grande ed ha praticamente messo il sigillo sulla vittoria del campionato qui siamo al 29esimo del primo tempo c'è questa azione interrotta dall'arbitro il signor Tidomenico di Sernia per un fallo di Gernone portiere della difesa grande su Zingarelli se andiamo piano con le immagini poi c'è il tiro di Di Griscio ma dobbiamo andare prima tiro di Di Griscio ma qui l'azione era stata già interrotta perché vedete se andiamo piano vedete davanti alla porta c'è una carica dell'attaccante del Riccia vedete che va dritto sul portiere che riesce soltanto a smanacciare il pallone ha fatto bene l'arbitro decisamente il signor Di Domenico a interrompere il gioco quindi a fermare il gioco perché c'era fallo sul portiere sempre prima categoria girone B e questo è un episodio veramente strano capitato a Sant'Angelo Limosano perché siamo al 45esimo del primo tempo un lancio di un giocatore in maglia rosa della Frentania colpisce l'arbitro che è il signor Pasqua Di Termoli qui andrebbe interrotto il gioco e l'arbitro dovrebbe scodellare il pallone naturalmente in favore della squadra che aveva il possesso in questo momento quindi in favore della Frentania invece Pasqua Di Termoli non interrompe il gioco e comanda un calcio di punizione dal limite dell'aria per la Frentania per un fallo successo dopo il suo tocco con la schiena e su questo calcio di punizione va a realizzare un bel gol Polenta portando in vantaggio la Frentania che poi perderà 7 a 3 bello il gol di Polenta ma l'azione andava interrotta perché l'arbitro se praticamente casualmente interrompe il gioco deve fermare l'azione e riprendere con il possesso palla in favore della squadra che deteneva il pallone in quel momento secondo minuto del secondo tempo vedete che cosa fa il portiere Castelnuovo della Frentania perché era in possesso di palla andiamo un attimo prima perché ce l'aveva lui la palla vedete ecco qui poi arriva Michele Zurlo che gli ruba il pallone allora Castelnuovo che fa lo cinge veramente alla vita e lo scaraventa a terra qui l'arbitro ha dato giustamente il calcio di rigore arbitro sempre Pasqua di Termoli perché questo è calcio di rigore veramente ci risulta un po' strano il fatto che abbia espulso il portiere della Frentania di fatti se andiamo avanti con le immagini si vede l'arbitro estrarre il cartellino rosso che bisognerebbe che ce lo spiegasse lui e poi vediamo anche la battuta del calcio di rigore va esattamente Luciano che fissa il 2 a 2 poi come abbiamo già detto il Sant'Angelo vincerà 7 a 3 prima categoria Girone A ha vinto il Castello Matese 5 a 1 contro il Cerce qui vi facciamo vedere questa bella rovesciata di Zazzarino attaccante del Castello del Matese che al sesto minuto del primo tempo effetto questa bella rovesciata su cui è pronto il portiere del Cerce Tutolo finale playoff di seconda categoria siamo a Campolattaro esattamente diciottesimo del primo tempo c'è esattamente un fallo di Mobilia giocatore con la maglia gialla su Siriba attaccante del dunque attaccante del Tammaro vediamo l'intervento è calcio di rigore senza nemmeno veramente perderci troppe parole perché il difensore in maglia gialla va proprio addosso all'attaccante dagli 11 metri arriva Cassella che non si sa che cosa vuole fare perché colpisce di esterno destro vedete e il pallone praticamente va proprio addosso al portiere dello Sporting Morelli quindi grossa opportunità per il Tammaro sprecata da Cassella poi il Tammaro perderà questa finale 2 a 1 stessa partita decimo del secondo tempo una grande opportunità per lo Sporting con tiro di Falco liberato sulla destra ecco andiamo a vedere anche questo tiro perché era tutto solo il giocatore in maglia gialla ma la sfera finisce a lato finale regionale giovanissimi a Benafro vediamo le proteste del Matese per questo presunto fallo di mani di Santa Capita giocatore con la maglia numero 7 bianco celeste sulla respinta del suo compagno di squadra vedete Santa Capita tocca probabilmente con il braccio destro ma il braccio secondo noi è completamente attaccato al corpo quindi non c'è aumento del volume dello stesso corpo per cui per noi ha fatto bene l'arbitro il signor Di Carlo Di Termoli a far proseguire allora fra i tanti interessanti episodi passati rassegni andrei su Sant'Angelo Limosano il campo di Sant'Angelo Limosano per la partita Sant'Angelo Limosano Frentania nella quale ci sono due episodi sui quali si può discutere cominciando ecco la squadra in maglia rosa è la Frentania Paolo praticamente compie un'azione offensiva la palla sbatte contro la schiena dell'arbitro Pasqua Di Termoli poi nel giro di qualche secondo ci sarà un fallo a limite e il gol della Frentania ma insomma in questi casi l'arbitro non interrompe il gioco fa suo il pallone e come si dice in gergo lo scodella chiedo a te perché giochi a calcio da 20 anni probabilmente forse di più sì no qui si ferma il gioco e si scodella la palla non capisco perché ha preso questa decisione anche perché guarda capisco se ti sfiora la palla magari un tocco leggero e comunque va fermato ma qui l'ha preso proprio in pieno quindi è inspiegabile veramente inspiegabile si scodella si restituisce alla Frentania che riparte magari qualche metro più indietro quindi inspiegabile Antonio Tamburro del Mirabello sì sono d'accordo anch'io anche in questo caso andava scodellata la palla e si ripartiva ma così c'è un episodio troppo diciamo a discapito del Sant'Angelo rimaniamo sul campo di Sant'Angelo Limosano perché è stato assegnato un calcio di rigore alla squadra di casa poi trasformato però ecco ringrazio sempre la nostra regia perché si è aggiunta un'inquadratura vedete Zullo che riesce a strappare il pallone al portiere della Frentania calcio di rigore sul quale ci sono pochi dubbi ma ecco vedete sfugge completamente il pallone al portiere ospite ma quello che vorrei chiedere è il colore del cartellino sul quale si può evidentemente discutere Paolo Di Blasio qui è stato espulso il portiere della Frentania Altra decisione sbagliatissima qui c'è il giallo sul rigore nessun dubbio assolutamente però tutta la vita giallo il portiere non va mai fuori in queste occasioni almeno abbiamo visto negli ultimi tempi il regolamento arbitrale dove si dà il giallo e assolutamente non il rosso Antonio Tamburro sono d'accordo anche io in questo caso per me andava dato il cartellino giallo e non il rosso quindi una decisione sbagliata poi trasformato questo calcio di rigore per il Sant'Angelo allora ci concentriamo sul top e flop di giornata curiosi il penultimo il penultimo Alessio esatto il penultimo top e flop di maggio e questa sera mi sono focalizzata per il top in serie B e il flop in prima categoria e direi a questo punto di andarle a guardare insieme top di settimana a Chedira del Bari che a Genova nell'ultimo turno di campionato segna il suo quindicesimo gol stagionale da rivedere il destro di Chedira che vale il 3 a 3 poco più tardi ci sarà il vantaggio del Genova a firma di crescito ma applausi per Chedira flop in prima categoria Luciano del Sant'Angelo è tanto bravo a liberarsi del portiere ospite quanto in Genuo nel fallire un gol a porta vuota da rivedere l'incredibile occasione per i padroni di casa bravi nel corso della partita a vincere 7 a 3 allora questo Bari che coinvolge anche Paolo Di Blasio che è il cugino di Mirko Antenucci giusto da Rocca Vivara che quindi parteciperà da neopromossa ai playoff si scontrerà con una fra Suttirol e Regina playoff al via dalla fine di questa settimana hai sentito tuo cugino? Sì sì ci sentiamo spesso siamo sentiti anche il giorno della partita con il Genoa speriamo dai speriamo sarebbe per lui un traguardo importantissimo l'ennesimo campionato di Serie B diciamo vinto anche se non direttamente sarebbe veramente un gran traguardo me lo auguro Mentre Antonio Tamburro ti è capitato mai di sbagliare un gol come quello del Sant'Angelo? Personalmente no penso che in quei momenti l'attaccante si trova in una situazione che praticamente gli compromette l'intera partita a mio parere se non si riesce a rifare subito diventa veramente pesante continuare la partita ma mentalmente perché poi il Sant'Angelo ha vinto largamente ovviamente dal punto di vista mentale contro la Frentani allora un grosso in bocca al lupo per l'anno prossimo al Mirabello complimenti per la vittoria del campionato di seconda categoria nello spareggio contro il Tammaro vinto 2 a 1 a Riccia e state ragionando anche voi subito al campionato di prima categoria o per ora ancora nessuna novità allora diciamo che un summit societario ancora non c'è stato però sicuramente l'obiettivo è quello di fare una squadra attrezzata per l'anno prossimo presumo che ci saranno ovviamente tutte le conferme rispetto a quest'anno soprattutto quella del mister e ovviamente avremo sicuramente bisogno di quelli che saranno 4-5 innessi di esperienza perché siamo una squadra molto giovane che gira intorno ai 24-25 anni di età media una cosa al volo tu sei di Baranello mi hai detto di Chiro non è più l'allenatore lo sapevamo già da qualche settimana ma rimarrà comunque a livello di dirigenza personalmente voci che ho sentito in paese dicono di questo il nuovo allenatore chi sarà? personalmente non lo so non ci sono state voci in giro che hanno diciamo dato un piccolo indizio grazie Antonio Tamburro buona serata e grazie di nuovo per l'invito e grazie all'amico Paolo Di Blasio del Trivento ci è dispiaciuto di questa retrocessione ma insomma probabilmente a tavolino si potrebbe riconquistare il campionato di promozione e ripartire perché poi siete anche bravi a mettere il punto e a resettare anche dal punto di vista diciamo morale sì assolutamente anche perché il calcio la vita in generale ti dà sempre comunque un'altra possibilità mi auguro che si possa ripartire ovviamente la società è pronta per per affrontare ripeto il campionato anche di promozione con un eventuale ripescaggio e quindi speriamo bene ce la metteremo tutta i propositi ci sono tutti e ci spetta dobbiamo soltanto aspettare grazie allora l'amico fisioterapista di Trivento Paolo Di Blasio grazie a voi è sempre un piacere essere ospite da voi piacere tutto nostro Alessia allora quando ci rivediamo per l'ultima di Molise a Calci esatto ci rivediamo come sempre lunedì prossimo per l'ultimo appuntamento con Molise a Calci alle ore 21 e 30 sempre qui sotto le Molise grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata buona serata a voi tutti in collaborazione con Design, Stile e Comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo uscita a Civitanova del Sagno Consul Brokers Piazza della Vittoria 14A a Campobasso Broker di assicurazione Info 0874 43 86 35 Molise a Calci Piazza della Vittoria Piazza della Vittoria A Frazione Grazie.